Rossella Brescia ha annunciato la fine della relazione con Luciano Cannito Sono ormai diverse settimane che si mormorava di una presunta crisi tra i due, e a darne per primi notizia erano stati Gabriele Parpiglia e Dejanira Marzano Adesso, a confermarlo è stata anche la diretta interessata in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Ho finito di girare gesti mari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro A quale dolore mi riferisco? Beh, ormai lo sanno tutti E, finita una storia che durava da vent'anni E, successo mentre stavo girando il film e non l'ho deciso io, per me è stato uno shock Rossella e il compagno non si sono mai sposati, ma è come se lo fossimo ha dichiarato la coreografa E comunque, se ce l'ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l'ha lasciata, ce la posso fare anche io Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere Cerco sempre di restare in armonia con le persone, il livore mi toglie energia In merito ai figli, i figli li ho desiderati e ho fatto cose per averli, ma non sono arrivati Però non ho il rimpianto, sono gli altri che te lo fanno pesare Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente, quando fai un figlio? Da poco a messa hanno letto il passo della Genesi in cui Adamo si accorge di essere nudo Prima di aver mangiato la mela non ne aveva la percezione